Ciao a tutti, brevissimo video, questa volta per chiedere a voi dei consigli, in particolar modo riguardante due creazioni che voglio fare. Allora, ho fatto delle creazioni con delle perline, seguendo un tutorial molto semplice per fare praticamente un cuore con delle perline da 4 mm ed elica da 11.0. E' venire questa forma di cuore, ma io, nonostante segua proprio perfettamente il tutorial, non mi riescono. Una è questa, che dovrebbe essere un cuore. Io ho usato quanto c'è scritto, ma io non lo vedo come cuore. Non so, ditemi voi, datemi una mano, provate a fare questo, provate ad usare anche altre perline, ho detto boh, sbaglierò qualcosa io. Questo sul rosso, ma proprio, cioè, è palese, che sono tondeggianti piuttosto che. E questo qui sui toni dell'azzurro. Io non ci vedo dei cuori e non so come sistemarli. Se avete voi qualche idea da darmi, fatemelo sapere. Perché volevo crearci appunto degli orecchini, visto che ho tante delica, tante perline, insomma, di questa misura. Quindi, fatemi sapere qualcosa. Quindi, questa è la prima cosa che vi volevo chiedere. Poi, come avete visto nell'ultimo video che ho fatto riguardante la creazione di un portorecchini, ho fatto degli orecchini con delle creazioni in uncinetto, però quelle già fatte, queste qui che avevo preso tempo fa, dai cinesi. Ho fatto tutta la coloratura, l'inamidatura, come solito. E vi vorrei chiedere un consiglio, perché ne ho fatto un paio così nere, proprio semplici e semplici. Però sotto non so come farlo. Praticamente le altre ci ho messo sopra un charms e la monachella. Invece queste qui volevo mettere qualcosa, diciamo, attorno qui. Non so, datemi qualche consiglio, qualche spunto su cosa potrei fare. Mi piaceva mettere qualcosa in contrasto sul viola, anche se però questi sono dei cipollotti sfaccettati di questo viola, però vedo che sono troppo scuri, quindi sicuramente devo scegliere un colore più chiaro. Però non mi piaceva fare qualcosa, diciamo, di manale mettendoci una perlina o un charms e mettere una monachella. La volevo creare proprio sotto un qualcosa che andasse, che sia insomma pendente. Però non ho idee sul colore. Non so, datemi voi un consiglio. Ditemi che colore potrei usare e magari che cosa mettere. Se svaroschi piuttosto che cipollotti o perline. Boh, ditemi perché io comunque ho un bel po' di roba, quindi posso trovare, insomma, fatemeli sapere. Dopo, come sempre, come ho fatto per gli altri, ve li farò vedere. Ho provato questa tecnica della coloratura, che io questa lo faccio con lo smalto. E poi vado a inamidarle. Vengono anche molto, molto resistenti con questa doppia lavorazione, chiamiamola così, inamidarlo col vinavil e acqua. Ho provato a usare i Pinata Color. E il risultato, utilizzando semplicemente il mio solito Teal e il mio solito amato Blue Violet e un goccino del Fuchsia, è venuto così. Allora, adesso qui devo andare a togliere un po' di cose. Quindi non so se usare questo o questo. Forse questo non è male. Visto così, mi è venuto in mente di fare, creare un qualcosa sul tipo scaccia incubi, acchiappa sogni, non so come lo volete chiamare. Però mi servirebbero assolutamente delle piumine da mettere. Purtroppo piccoline, non le ho, non so neanche dove trovarle. Però mi era venuto in mente una cosa del genere. Oppure fare, io per dire qui, avevo preso dai cinesi questo componente. Quindi una cosa del genere. Adesso ve lo faccio vedere. Questo qui, tipo metterci delle... Fare un qualcosa di questo tipo, non lo so. Ditemelo voi. Oppure comunque togliere il cuore e metterci sotto, ecco, in questo modo. Secondo me ci sta da Dio. Ditemi che cosa ne pensate. E comunque viene una cosa figa, anche con questi pinata. E qui non ci ho fatto l'inamidatura, ho solo utilizzati pinata. E comunque è molto, molto resistente. Adesso andrò a sistemare un attimo il bordo. Però insomma, che cosa dice? Dite, meglio usare questo verde... Questo verso qui, un po' più delicato, un po' più sfumato. O piuttosto questo qua, che forse è un po' più strong. Quindi verrebbe o una cosa così. Aspettate. Così. Magari mettendo qui un qualcosa di centrale. Un qualcosa ci vuole, secondo me. Oppure così. Forse è più carino in questo modo, rimane più delicato. Non so, datemi voi dei consigli. Questo video, insomma, è così. È una richiesta mia da parte vostra. Ultimissima cosa che vi chiedo, che mi è venuta in mente. Praticamente, avevo fatto delle creazioni sempre in resina, sempre pitridish. Queste non ve le avevo fatte vedere perché non sapevo se buttarle. Che sono queste qui. Che tra l'altro mi era... Mi era piaciuta anche come fosse venuta la sfumatura, insomma, la magia del pitrish. Però, non so per quale ragione, questa zona qui, questa zona qui e questa zona qui sono ancora umide. Non ne ho la minima idea. Il componente comunque di per sé si è asciugato. Però ci sono queste chiazze. Secondo voi, se utilizzo semplicemente un po' mi è rimasta di resina UV e la vado a spennellare, mi farà una cosa liscia? Oppure è meglio che lo rimetto proprio nello stampo con una base di colata di resina trasparente normale? Questa è la richiesta perché, vi dico, mi era anche piaciuto questo in particolar modo. Mi è piaciuto un casino. Questo azzurro con tutte queste sfumature dell'oro e del bronzo mi piace tantissimo. E, insomma, mi dispiace doverli buttare. Quindi, cosa dite? Meglio che faccio una base di resino UV? Oppure faccio proprio una colata, una base di colata e spiaccico sopra questa creazione? Questa è la domanda. Anzi, queste sono tutte le mie domande. E spero di ricevere un po' di risposte e di consigli. E rimanete sintonizzati che ci sono tantissime novità. Un bacione grande. Ciao, ciao.